Bene, buonasera a tutte e a tutti. Terza lezione su Frederick Nietzsche, 1844-1900. Affrontiamo la fase 1, come direbbe Conte. La fase 1 di Nietzsche è chiamata fase filologica. E la fase filologica si compone di due opere fondamentali. La nascita della tragedia, 1872. Considerazioni inattuali, 1873. Che è una raccolta di scritti in cui Nietzsche, diciamo così, fa una analisi filologica di concetti come verità e menzogna. La nascita della tragedia, quindi, 1872, è un'opera che analizza come è nata la più grande forma espressiva artistica, il teatro, in Europa, e cioè in Grecia. La tragedia di cui parla appunto Nietzsche è la tragedia dei grandi tragediografi greci, Eschilo, Sofocle e Euripide. Per ricordarceli, per ricordarcelo. Eschilo che si Sofocle, attenta alle scale che Euripide. Ok? Piccola filastrocca. Eschilo che Sofocle, attenta alle scale che Euripide. Ebbene, Eschilo, Sofocle e Euripide sono i tre tragediografi che inventano il teatro in Grecia. E sappiamo quanto fosse importante il teatro in Grecia. Già Aristotele ci aveva detto che il teatro aveva una funzione sociale e politica importantissima. Il teatro era la rappresentazione della vita quotidiana dei greci, con le loro guerre tebane, con le loro guerre con il Peloponneso. Quindi il teatro che era un momento di arte massima in Grecia, che veniva rappresentato nei cosiddetti festival, un po' Leinic and Gemini Festival greco, erano le Dionisiache, cioè questi festival in cui si celebrava Dioniso, che era il dio del teatro, ok? In questa sagra di Dioniso, immaginateva un po' così, che durava settimane, succedevano delle cose straordinarie. Spettacoli teatrali gratis, possibilità di bere, mangiare, trombare, orge. Veramente il popolo greco si scatenava quasi fosse uno dei movimenti hippie quadruplicato. Ecco, io me lo immagino un po' così. In questi momenti, che duravano giorni, se non settimane, si assisteva agli spettacoli gratuitamente, perché in teatro potevano andarci anche gli schiavi. Questo è un punto che dovrebbe farci riflettere tantissimo oggi, su come intendiamo il teatro come industria culturale. Quindi, il teatro era gratis, era la televisione, era il Facebook di allora, era l'Instagram di allora, tutta l'arte era nel teatro. Nel teatro si rappresentavano le guerre, i drammi umani, le commedie. Poi vedremo, con la nascita di Aristofane, inizierà la commediografia, no? Aristofane sarà un punto importante per Nice, ma, e lo dirà anche qui, ma qui non parla di commedia, parla di tragedia, ma Aristofane, diciamo che è quello che ha capito perché la tragedia non funzionava più in Grecia. Comunque, grandi tragedie greche in questi spettacoli chiamati Dionisiache, quindi queste feste in onore di Dioniso, Dio del teatro, Dio dell'eccitazione, Dio della, come dire, dell'espressività, dell'espressività del corpo, del godimento, Dio, appunto, dell'estasi, ecco. Il teatro che aveva una funzione importantissima per Aristotele, vi ricordate, la catarsi, grazie al teatro ci si poteva purificare delle passioni, diceva Aristotele, no? E quindi il teatro aveva una funzione fondamentale per creare armonia, legame sociale, per anche propagandare, propagandare le idee politiche del tempo. Quindi, come dire, le rappresentazioni che si facevano non erano rappresentazioni casuali, erano anche rappresentazioni, diciamo così, manipolate politicamente, perché era la televisione del tempo, una RAI, una Mediaset del tempo. Il teatro era l'unico modo in cui il popolo conosceva quello che faceva, quello che faceva la politica, era l'unico modo in cui il teatro conosceva i grandi miti del passato omerici, come Agiace, come Agamennone, come Ulisse, come Achille, come le guerre di Tebe, la storia originale della Grecia, quindi la storia delle famiglie tebane, Edipo, e poi tutta la tragedia successiva a Edipo, quindi era anche un modo per conoscere il proprio passato. Il teatro era importantissimo, importantissimo. Dove si faceva teatro? Si faceva teatro ad Atene, soprattutto, ma noi dobbiamo essere orgogliosi, a Siracusa, Siracusa in Sicilia, ancora oggi c'è il secondo più grande teatro di tragedia, greca, antica. Sapete che Siracusa, la Sicilia orientale, sudorientale, era una colonia della Magna Grecia, era una colonia, appunto, dorica, era una colonia, scusate, ionica, e quindi era un luogo, Siracusa, diciamo, una capitale della cultura, della cultura classica greca, e se avete modo, quest'estate, di andarci, sperando che questa emergenza finisca presto, andateci, perché si può respirare ancora, in quel tempo, in Nice ci andò, a Siracusa, tra l'altro, veramente la potenza dell'arte classica greca, poesia, letteratura, ma soprattutto teatro. Ecco che Nice, allora studia il teatro, studia le tragedie di Eschilo, Eschilo è, appunto, quello che scrive il Prometeo Incatenato, Eschilo è quello che scrive la Gamennone, Sofocle, Sofocle è quello che scrive l'Antigone, la guerra dei Sette contro Tebe, la tragedia di Antigone, Sofocle, e la tragedia di Edipo, Euripide, quello che scrive la storia di Elena, di questa donna che in realtà non è mai andata a Troia e quindi questa guerra che è scoppiata per colpa sua in realtà è scoppiata per un'immagine, non per lei, la racconterà Euripide, altra tragedia straordinaria, ebbene, Nice se le legge tutte queste tragedie, tra l'altro se le legge in greco, greco antico, quindi in original copyright, e attraverso l'analisi filologica fa appunto un'elaborazione filosofica e ci dice, Nice che la Grecia è la risposta per scovare le radici della nostra civiltà. Questo è un primo punto importantissimo. Dobbiamo tornare ai greci per scoprire e scovare le radici, l'origine della nostra civiltà. E quindi i greci sono importantissimi. Parte dai greci e che cosa scopre Socrate? Scopre che la tragedia ha avuto un percorso di un certo tipo. Da inizialmente era dramma totale, cioè disordine, caos, le tragedie greche soprattutto quelle Eschilee e Sofoclee quelle di Eschile e di Sofocle sono tragedie dove a predominare dove a predominare è diciamo così il caos, il disordine. Nelle tragedie greche tutti muoiono, non c'è un dietro fine, tutti muoiono, anche il protagonista, l'eroe, tutti. C'è un disordine di relazioni. Quindi dice a un certo punto è successo qualcosa. Le tragedie greche si sono trasformate, diventano più ordinate, si comincia a scrivere, si comincia a sceneggiare, si comincia a trovare una razionalità ai personaggi, al coro, alla storia, alla trama. Non c'è più quel caos che trovavo in Eschileo e in Sofocle. Questo succede con Euripide. Perché succede con Euripide? Perché il teatro di Euripide coincide con la nascita di Socrate, il filosofo della razionalità, il filosofo della razionalità, il maestro del pensiero occidentale, colui che fa della ragione, del discorso, come dire, punto centrale della filosofia. e quindi questo ha avuto un'influenza anche nelle opere d'arte. Dice Nietzsche che Socrate, diciamo, la razionalità socratica, entra anche nella tragedia. Entra nella tragedia Euripidea, soprattutto, perché la tragedia, diciamo, di Sofocle e di Eschileo era una tragedia, vi dicevo, disordinata, caotica, che esprime lo sgomento dell'esistenza umana profondamente, no? Il ciclo della vita e della morte, le colpe dei padri che cadono sui figli, le condanne a cui siamo condannati tutti, no? Il più grande delitto umano è quello di essere nato, diceva Calderon. Ecco, le tragedie raccontano questa condanna dell'esistere, in maniera caotica nella strutturazione. Con Euripide si ordina, perché? Perché arriva Socrate, la razionalità di Socrate influenza quindi il teatro, per cui, a partire da questo, a questa analisi che lui fa delle tragedie greche, Nietzsche dice che due sono stati i sentimenti dei greci, a partire dalla tragedia degli spettacoli. Perché cosa fa Nietzsche? Studia lo spettacolo per capire la psicologia di un popolo. Questo fa. Studia lo spettacolo, l'arte, per capire la psicologia di un popolo. e dice il sentimento greco durante le tragedie, durante appunto il periodo delle arti, degli spettacoli, delle dionisiache, quindi il popolo greco era dominato da due grandi sentimenti. Il dionisiaco, primo appunto fondamentale, e l'apollineo, secondo punto. Questi sono i due sentimenti contrastanti l'essere umano. dionisiaco, apollineo. Che cos'è il dionisiaco? Che cos'è l'apollineo? Il dionisiaco, per Nietzsche, è, dionisiaco, quindi deriva da Dioniso, dio del teatro, dell'eccitazione, dell'impulso, dell'istinto, quindi il dio dell'ebrezza del corpo, il dio che libera e fa esplodere gli istinti, il dio che va al di là del bene e del male, di ciò che è giusto, di ciò che è sbagliato. Dionisiaco incarna appunto il sentimento pulsionale, la pulsione, Freud direbbe la pulsione di vita e la pulsione di morte, eros etanatos. Questo, Schopenhauer lo chiamerà volontà, eh? Il dionisiaco è questa roba qui, un impulso, cieco, irrazionale, che parte dal corpo, istintivo, che è appunto ciò che determina la nostra esistenza e ci condanna questa esistenza che è appunto una condanna, noi nasciamo per morire, noi nasciamo per morire e quindi tutta la nostra esistenza è uno sfuggire alla morte che però prima o poi arriva, questo raccontano le tragedie greche, quindi il dionisiaco è questo sentimento impulsivo, questa istintualità, questa anche profonda angoscia e disperazione dell'esistenza umana, tutto questo è nel dionisiaco, quindi ciò che importa è vivi l'attimo, vivi il godimento, fai una vita estetica, direbbe Kierkegaard, no? Perché questo è ciò che più conta nella vita, l'istintuale, l'impulsivo, l'espressivo, queste sono le cose che contano di più, i sentimenti dionisiaci, però c'è un altro sentimento che contrasta chiaramente con il dionisiaco, che è l'Apollineo, Apollineo deriva da Apollo, Apollo chi è? È il dio della ragione, è il dio della razionalità, è il dio dell'ordine, è il dio del sole, ok? Dio greco, importantissimo, l'Apollineo quindi è il dio dell'ordine, dell'armonia, delle arti plastiche, della riconciliazione, del mettere tutto insieme in maniera armonica, pensate alle statue greche, classiche, ok? Che incarna quindi l'impulso, l'impulso della parola, del discorso, del disco della ragione, l'impulso del mondo come rappresentazione, dell'ordine intellettivo, incarna quindi l'Apollineo, la coscienza, la coscienza, la coscienza razionale, ok? Quindi, Apollineo, coscienza razionale, dionisiaco, inconscio, irrazionalismo, ok? Sinteticamente possiamo dirla così, Apollineo, coscienza razionale, dionisiaco, impulso, irrazionale. Questo è il sentimento contraddittorio che caratterizza l'essere umano e i greci, ci dice Nice, lo hanno capito per prima, ancora oggi, noi siamo divisi, no? Ancora oggi, cioè ancora oggi, è stato sempre così, l'essere umano è stato sempre un essere diviso, un essere contraddittorio, un essere che pensa una cosa e ne fa un'altra, un essere che pensa una cosa e questa cosa la fa soffrire, è sempre diviso il soggetto umano, non è mai organico, come voleva Hegel, Kant, è sempre contraddittorio, sfugge alla logica l'essere umano, sfugge alla logica aristotelica, quindi, perché? Perché è un continuo contrasto tra Apollineo e Dionisiaco, e quindi che cosa dice Nice? Com'è che è arrivato questo Apollineo? Come si è passati dalla tragedia Dionisiaca e sempre di più con Euripide alla tragedia Apollinea, quindi alla tragedia più razionale e ordinata? È stato Socrate, Socrate ha spezzato questo equilibrio, Socrate, come dire, ha spezzato questa contraddizione, quindi l'uomo è contraddizione, dice Nice, tra Apollineo e Dionisiaco, Socrate ha spezzato questa contraddizione, come l'ha spezzata? L'ha spezzata con l'introduzione della categoria, l'ha spezzata con l'introduzione del concetto, l'ha spezzata con l'introduzione della parola, del discorso, del ragionamento, e che cos'è un concetto? Che cos'è un ragionamento? Dice Nice, il ragionamento, un concetto non è che è astrazione, è astrazione dell'esistenza, il bello, il bene, il male, il giusto, lo sbagliato, la vita, la morte, sono tutti concetti astratti che Socrate ha introdotto con i suoi discorsi che il grande Platone con i suoi dialoghi ci ha fatto vedere, il timeo, il simposio, tutti questi, ma è stato Socrate a metterli in parola, ha spezzato quindi questa contraddizione tra coscienza razionale e il razionalismo, privilegiando che cosa? Privilegiando chiaramente l'Apollineo, quindi ha privilegiato chiaramente l'ordine e la razionalità Socrate, quindi con Socrate nasce la filosofia, lo sappiamo, la filosofia greca, antica, e poi tutta la filosofia successiva, no? perché grandi discepoli di Socrate poi saranno nella filosofia moderna, scusate, nella filosofia antica Platone-Aristotele, nella filosofia medievale Sant'Agostino e Tommaso d'Aquino, nella filosofia moderna Cartesio e Kant, nella filosofia contemporanea Egel e l'idealismo, ecco, sono tutti discepoli di Socrate questi filosofi, ci siamo ragazzi, quindi, capite allora perché è importante Nietzsche colpirne uno per educarne cento, colpire Socrate perché è lui il primo ad aver inventato la filosofia razionale, cioè ad aver dato alla ragione questa predominanza che continuerà a esserci poi successivamente e quindi Socrate ha tentato di dare ordine al disordine, Socrate ha tentato di dare ordine al caos ma la vita dice Nietzsche è caos la vita è dionisiaca e ogni tanto appollinea e quindi questo tentativo di mettere ordine al caos perché la vita non ha senso questo è il punto nasciamo per morire perché nasciamo perché moriamo sono domande senza senso queste sono le grandi domande su cui i grandi filosofi si sono interrogati ma su cui ancora una volta Nietzsche ci dice che la filosofia come dire l'esistenza è assurda l'esistenza è assurda perché ci fa nascere per farci morire è senza senso e noi dobbiamo trovare un senso e questo senso Socrate lo ha trovato con la filosofia conosci te stesso conosci te stesso ci siamo ragazzi quindi Socrate ha degenerato dice Nietzsche l'impulso dionisiaco Socrate ha messo come dire ha creato la metafisica cioè una spiegazione razionale delle cose che non sono fisiche l'anima Dio il mondo ok Socrate ha ridotto a schema questa esistenza senza senso questa esistenza che è caotica Socrate ha strutturato ha messo ordine ha classificato ha definito l'esistenza caotica Socrate ha dato un modello un modello lui dice di teologismo razionale cioè il fatto che facciamo filosofia per uno scopo ha dato anche lo scopo cioè si fa filosofia per arrivare a uno scopo a culturarci conoscere se stessi eccetera 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 no? perché la filosofia ci dice Socrate serve a conoscere se stessi e quindi a conoscere anche gli altri è uno scopo ma dirà Nietzsche non c'è scopo neanche in questo perché l'esistenza non ha scopo non ha fine solo Socrate ci ha dato un modello illusorio per questa per dare senso alla nostra esistenza quindi Socrate il primo grande bugiardo perché? il primo grande bugiardo il primo grande a mentire è stato Socrate colui che è stato il primo grande la prima grande bugia inizia con Socrate la filosofia è menzogna ci dice Nietzsche per questo è filosofia col martello lo vedete la filosofia è menzogna quindi raga tutto quello che abbiamo studiato in questi due anni è menzogna è bugia non consolatevi che ti dico questo adesso allora se tutto è bugia non studi più un cazzo no no non funziona così bisogna arrivare a capire che la filosofia è una bugia a partire dallo studio dei filosofi Nietzsche dice questo è tutta bugia e il primo grande bugiardo della filosofia è appunto Socrate sentite che cosa dice Nietzsche in Nascita della tragedia su Socrate nelle prime pagine primissime qualunque cosa possa esserci stata alla base di questo problematico libro deve essere stata una questione di primo ordine piena di fascino e inoltre una questione profondamente personale ne è testimonianza il tempo in cui esso nacque nonostante il quale esso nacque il tempo emozionante della guerra franco-tedesca del 1870-71 quindi scrive questo libro durante la guerra tra Francia e Germania 70-71 mentre i tuoni della battaglia di Wurt trascorrevano sull'Europa l'almanaccatore e amante di enigmi a cui toccò in sorte la paternità di questo libro cioè io cioè Nietzsche se ne stava da qualche parte in un angolo delle Alpi mentre c'era la guerra io me ne stavo a prendere il venticello nelle Alpi sprofondato nei pensieri e negli enigmi per conseguenza molto preoccupato e insieme libero da preoccupazioni e mettevo in iscritto ho finito ragazzi i suoi pensieri sui greci nocciolo del libro stravagante difficilmente accessibile a cui è dedicata questa tardiva prefazione alcune settimane dopo anche egli si trovava sotto le mura di Metz senza essersi ancora sbarazzato dai punti interrogativi che aveva apposti alla pretesa serenità dei greci e dell'arte greca finché da ultimo in quel mese di massima tensione in cui a Berselle si discuteva la pace tra Francia e Germania lentamente di una malattia portata a casa dal campo fissò in sé definitivamente la nascita della tragedia dallo spirito della musica cioè Nietzsche dice durante la guerra comincio a scrivere tra l'altro interessante parla di sé in terza persona fantastico cioè aliena se stesso nell'opera parla di sé in terza persona che cosa ci dice di Socrate è questo che cosa significa presso i greci dell'epoca migliore più forte più valorosa il mito tragico e l'enorme fenomeno del Dionisiaco che cosa significa la tragedia nata da esso e d'altra parte ciò per cui la tragedia morì fu il Socratismo il Socratismo della morale il Socratismo della dialettica della moderazione e la serenità dell'uomo teorico ebbene non potrebbe essere proprio questo Socratismo un segno di declino di decadenza di stanchezza di malattia di istinti che si dissolvono anarchicamente cioè dice l'ipotesi di Nietzsche in questo libro è Socrate arriva proprio nel momento in cui i greci stanno decadendo stanno declinando infatti poi ci saranno le guerre i trentatiranni ha un'ipotesi interessante Nietzsche Socrate arriva a risollevare l'animo morale dei greci proprio nel momento di massimo decadimento un classico questa serenità greca della grecità posteriore non potrebbe essere solo un tramonto questa serenità dei greci con Socrate in realtà è il tramonto è la decadenza la volontà epicurea contro il pessimismo solo la cautela di un sofferente a che scopo la scienza peggio ancora da che deriva ogni scienza da che cosa deriva ogni scienza cioè ogni razionalità la matematica l'astronomia la geometria che poi tutti i greci studieranno come? forse la scientificità è solo una paura la scienza è solo una paura è una scappatoia di fronte al pessimismo una sottile legittima difesa contro la verità la scienza è una sottile legittima difesa contro la verità fantastico e per parlare in termini morali qualcosa come viltà e falsità o per parlare in termini morali la scienza è un'astuzia una furbizia oh Socrate Socrate parlare fu questo per te questo fu il tuo segreto Socrate che dice che la scienza ci salverà la ragione ci salverà ma questo fu il tuo segreto oh sentite come lo chiama oh Socrate Socrate forse questo fu il tuo segreto oh misterioso ironico fu questa forse la tua ironia fantastico cioè che cosa dirà Nietzsche questa questa esaltazione della ragione questa esaltazione della scienza del discorso filosofico e quindi della scienza poi che inizierà con l'astronomia con Aristotele no è stato una scappatoia una sottile scappatoia da quella che è la malattia mortale dell'esistenza e cioè che l'esistenza è senza senso l'esistenza è angoscia l'esistenza è sofferenza l'esistenza è pathos come dicevano i tragedi grechi e tu Socrate hai voluto con la tua filosofia trovare una scappatoia ah tu Socrate questo lo dirà nella Gaia Scienza poi lo vedremo tu che prima di morire che cosa fai? Catiuscia se lo ricorderà sacrifica un gallo ad Asclepio Critone dice Socrate prima di morire dopo aver bevuto la cicuta sacrifica un gallo ad Asclepio che cosa sarà significato questo prima di morire Socrate che dice a Critone di sacrificare il gallo ad Asclepio e chi è Asclepio? Il dio della medicina e allora dirà dice quel sacrifica il gallo ad Asclepio è confermare il fatto che Socrate è rimalato che la vita è malattia la vita di pensiero è malattia è sofferenza e quindi sacrifica il gallo ad Asclepio significa sacrifica questo gallo alla medicina che comunque non è riuscito a curarmi o meglio mi ha curato con le arti della scienza in maniera nel senso che Socrate sapeva di medicina perché aveva studiato Asclepio e quindi dice Sacrepio è questo gallo a chi? a un dio il dio è Asclepio ma i dei non esistono quindi Socrate con questa butade finale anch'essa ironica dice in realtà conferma senza dirlo però che la vita è malattia e ha un senso solo grazie alla scienza alla filosofia al discorso nazionale eccetera 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 ci siamo ragazzi? quindi la vita per Nice è un contrasto tra Apollinio e Dionisiaco le tragedie greche ci raccontano molto bene questo questo equilibrio viene spezzato dalla razionalità di Socrate che parteggia per l'Apollinio ma è un modo per sfuggire all'angoscia alla disperazione alla paura della vita perché la vita è angoscia e disperazione perché la vita è condanna è senza senso ci vediamo domani buon lavoro grazie grazie a tutti grazie a tutti